Ciao, sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Come saprete, la distribuzione GNU Linux che consiglio per principianti è Linux Mint. Se invece non siete principianti, ma vi state guardando attorno per trovare una nuova distribuzione Linux, vi consiglio il mio video Le mie soluzioni per chi soffre di distro hopping. In quel video troverete diverse soluzioni per diverse categorie di utenti GNU Linux. A seconda della categoria a cui appartenete, potrete trovare delle nuove distro che potrebbero interessarvi. Se poi volete che io recensisca una distro in particolare, fatevi avanti nei commenti e vedrò quel che posso fare. Spero davvero che evitiate distribuzioni tipo GNU o distribuzioni basate su sorgenti, perché con il mio hardware datato ci vorrebbe davvero un'eternità per compilare i pacchetti. Comunque, scrivetemi tutto quello che volete nei commenti e io vedrò cosa posso fare. Le distribuzioni GNU Linux, a cui però tengo particolarmente, sono le distribuzioni 100% libere, consigliate, supportate, dalla Free Software Foundation. Diciamo che trovo che sia un peccato che se ne parli così poco, sicuramente non sono distro adatte a tutti, non perché siano tutte difficili da utilizzare, ci sono delle distro anche facili da utilizzare, ma il problema è che per utilizzarle deve avere un hardware che le supporta e deve essere un utente che non utilizza completamente software proprietario. Stiamo parlando di distribuzioni con un kernel Linux liberato, con un kernel Linux esente da blob binari, ossia senza moduli kernel non liberi. Sì, perché il kernel Linux utilizzato da quasi tutte le distribuzioni GNU Linux contiene al suo interno dei blob closet source, che ovviamente ti permettono di fare girare il sistema operativo GNU Linux sul tuo computer, se hai hardware che necessita di moduli closet source. Quindi sicuramente queste distribuzioni escludono un'utenza che ha dell'hardware non compatibile. Escludono, come detto, anche un'utenza che utilizza abitualmente software proprietario. Su queste distribuzioni, ripeto, c'è il 100% di software libero, non c'è nessuna traccia di software proprietario, qualunque forma di software. Allora, di quale distribuzione stiamo parlando? Si tratta di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 distribuzioni, elencate qua sul sito gno.org. La seconda distribuzione che vedete, Dinabolic, non la tratterò sicuramente perché si tratta di una vecchia distribuzione che gira solamente sul LiveCD ed è una distribuzione dedicata ad un uso di editing, editing audio e video. Cercherò di trattare le altre distribuzioni, cominciando da Triskel. Triskel GNU Linux è una distribuzione adatta anche a principianti, volendo, per un uso generico, è basata su Ubuntu, su Ubuntu LTS, quindi anche questa è una distribuzione a lungo termine di supporto, con desktop Mate, oppure LXDE, oppure c'è anche la versione con KDE Plasma. Comunque noi andiamo sul sito di Triskel, triskel.info, clicchiamo su Download, e vediamo infatti che abbiamo la versione con Mate, la versione con LXDE, la versione con KDE, poi una versione didattica per i bambini. Scarichiamo la versione Ammiraglia, Triskel con Mate Desktop, io ho già l'ho scaricata, quindi andiamo ad effettuare il boot. Ecco qua, prova Triskel se ne sa installarlo, noi lo installeremo, vi guiderò nel processo di installazione, che sicuramente non sarà difficile, ripeto, è basata su Ubuntu. Adesso mette il video in pausa, e ci rivedremo quanto Triskel ha finito di caricarsi. Ed ecco che Triskel ha finito di caricarsi, quindi scegliamo la lingua italiana, già è selezionata in realtà, clicchiamo su Avanti, scegliamo la tastiera italiana, andiamo su Avanti, scaricare gli aggiornamenti durante l'installazione di Triskel, sì, ok, lasciamo qua la casella spuntata, andiamo su Avanti, sono su una macchina virtuale, quindi scusate un po' la lentezza, e ripeto che il mio hardware è anche datato, cancello il disco e installa Triskel, questa è l'opzione che sceglierò, tanto per brevità, poi se volete fare altro, fate altro, comunque sul video, sull'installazione di Linux Mint, trovate tutte le informazioni, ho anche un video con installazione, con partizionamento manuale, quindi nel caso siate interessati al partizionamento manuale, andate a guardarlo, non perdetevelo, comunque io cancello il disco, e installo Triskel come unico sistema operativo, vado su Installa, confermo, Avanti, scegliamo il fuso orario, Avanti, Nome, Ok, Password, Va bene, Avanti, ed è partita l'installazione, metto il video in pausa, e ci rivedremo quando Triskel avrà finito di installarsi, ed ecco che Triskel ha finito di caricarsi, questa è Triskel 10.0.1 Nadia, una versione LTS a lungo termine di supporto, basata su Ubuntu, su Ubuntu 20.04, purtroppo sì, basata su una vecchia versione di Ubuntu, comunque, Triskel 10.0.1 è stata rilasciata nel gennaio del 2022, ed è supportata fino ad aprile 2025, questo è l'ambiente desktop Mate, adesso vediamo che versione abbiamo, informazioni su Mate, e Mate versione 1.24.0, vediamo su che kernel siamo, apro un terminale, scrivo uname trattino r, quindi questo è, come vi dicevo, il kernel Linux libero, nella versione 5.4.0. Tutto sommato non è una versione così vecchia, mi aspettavo di trovare una versione vecchia, essendo Triskel basata su Ubuntu 20.04, credo che attualmente su Linux Mint siamo sul kernel 5.15, è chiaro che su Arch Linux, essendo Arch Linux una rolling release, la siamo ben più in avanti, siamo sul kernel 6.1. Niente, vediamo il software in dotazione, abbiamo la categoria Internet, con ovviamente un browser Internet, il browser Internet è chiamato A-Browser, ma non è altro che un browser basato su Mozilla Firefox, vediamo su quella versione siamo, versione 100.0.2, adesso non sono in grado di vedere su che versione di Firefox è basata, comunque è chiaro che per le cose importanti, per gli aggiornamenti di sicurezza, riceverete gli aggiornamenti fino al 2025, quindi non vi dovete preoccupare di versioni vecchie, quando si tratta di sicurezza, gli aggiornamenti vengono sicuramente assicurati. La particolarità di questo browser è che non permette di installare facilmente, oh scusate, che non permette di installare facilmente dei plugin non liberi. proviamo, vado su estensioni e temi, trova altri componenti aggiuntivi, ed ecco che non ci troviamo sulla pagina che troveremmo normalmente su Firefox, ma siamo su una pagina di Triskel, dove possiamo installare tutti questi plugin, in tutti questi add-ons. Va bene, proseguiamo la recensione della distro, abbiamo un client email, iStove, iStove non è altro che un'altra versione di Thunderbird, è basata ovviamente su Thunderbird, ecco qua, va bene, abbiamo poi Pitchin, che supporta diversi protocolli di messaggistica, abbiamo Transmission, per scaricare dal protocollo Torrent, un'applicazione per Bitcoin, non ne ho la più pallida idea, Jami, che è per un software di messaggistica, video messaggistica, video chat, l'IFEREA, per Feed RSS, credo, è un visualizzatore di desktop remoti. Per quanto riguarda l'ufficio, abbiamo ovviamente la suite OpenOffice, adesso vado ad aprire LibreOffice Writer, ok, e qua siamo sulla versione 7.2.7.2, andiamo avanti, audio, video, abbiamo Cheese per la camera, per la webcam, VLC, Brasero, per chi ancora masterizza CD, e Rhythmbox, per la tua collezione musicale. Abbiamo alcuni semplici giochi, credo che siano i giochi di Gnome, Gnome Mine, che è il campo minato, Gnome Mahjong, il solitario Isle Riot, e il Sudoku. Per quanto riguarda gli accessori, vediamo il file manager Kaha, perché siamo effettivamente sul ambiente desktop Mate, abbiamo la calcolatrice di Mate, eccetera. Per aggiungere nuove applicazioni, andiamo semplicemente su aggiungi rimuove applicazioni, anche Triskill offre il suo centro software, diciamo, dovrei ricaricare la lista, ma risparmiamo tempo, e quindi possiamo ricercare le diverse categorie di software. Ad esempio, andiamo sui giochi, 0AD, abbiamo uno screenshot, la descrizione, insomma, come già siete abituati sulla vostra distro. Probabilmente, questo centro software è un po' più spartano, ma sicuramente fa il suo dovere. E niente, questo è Triskill. Ve la consiglio? Beh, insomma, io ripeto, se siete assoluti principianti, vi consiglio Linux Mint. Se non siete assoluti principianti, dovete vedere se il vostro hardware è compatibile con le distribuzioni consigliate dalla Free Software Foundation. Se il vostro hardware necessita di un kernel Linux normale, quindi non liberato, beh, non potete utilizzarle. Per il resto sicuramente semplice da utilizzare, una distro abbastanza adatta a principianti. Niente, vi dirò nel secondo video qual è la distro che io utilizzo attualmente, perché sì, io utilizzo una distro di queste elencate dalla Free Software Foundation. e niente, non vi anticipo niente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao da Clarintux.